Salve, io sono Dino Vettori, faccio l'igienista dentale forse da più di trent'anni, anzi forse. Comunque questa professione è ancora poco conosciuta, esisterà non da tantissimo tempo, è una persona che affianca soprattutto il dentista, però è la figura fondamentale, secondo me non per prevenzione, dello studio dentistico, perché uno studio senza un'igienista dentale secondo me non avrebbe senso di esistere. Quindi niente, è la figura che crea forse un anello di congiunzione tra paziente e dentista ed è soprattutto quella persona che crea molto più feeling anche rispetto allo stesso ombudriata. Perché? Perché ha possibilità di vedere molto più spesso il paziente, cioè più volte nell'arco dell'anno. Ed è soprattutto quella figura che vi terrà lontani dal dentista stesso, secondo me lo sanno. Però se uno frequenta con regolarità l'ingienista dentale probabilmente andrà molto meno dal ombudriata. perché seguendo le norme di igiene consigliate, seguendo le varie indicazioni che vengono date e seguendo i tempi soprattutto dei richiami di igiene, è difficile che un paziente abbia necessità a Contiva e andate al dentista. Ehm... 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 Ehm...